ma attacca a sinistro, vieni sinistro che fatticciaghi attento che fatticciaghi col destro, scambia a sinistro non mollare non andare niente così adesso vieni ticciaghi vai bravo, vai, vai Antonio, bravo alza la gamba, destra sopra la trinta picciaghi a fresca fai alla madonna dai Tony sempre concentrato, no ma perché non ci metterebbe sto avanti? dai Tony dai Antonio, dai vai Antonio, ce la fai, vai, ce la fai vai che ce la fai e lavora, non guardare vai, vai faccia le gonde faccia la gamba tu forza, lavora vai dentro con la gamba vai, vai vai, che sto, vai adesso forza, Antonio, lavora adesso, vai vai, vai, ora vai ora chiamalo, chiamalo, chiamalo chiamalo, chiamalo 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 non lo devi chiamare chiamalo 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 Ma perché l'ha fatta mettere? Ma perché le sto vanno? Ma perché le sto vanno? Ma perché le sto vanno? Ma perché l'hanno attaccato? Non sapevo. Poi doveva fare il cartellino? Prova il cartellino. L'altro cartellino, no? Ma perché le sto vanno? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.